Da oggi siamo la prima e unica azienda italiana autorizzata alla commercializzazione e la produzione di polvere di grillo liofilizzata ad uso alimentare della storia italiana. Quella che comunemente può essere chiamata farina di grillo, da oggi la possiamo trovare nei prodotti alimentari? Da oggi la troveremo nei prodotti alimentari, per quanto riguarda il canale B2B sarà distribuita da un'azienda partner che sarà Reire, mentre per il canale B2C e quindi il cliente privato può acquistarla direttamente sul nostro sito. La farina di grillo in quali prodotti può essere utilizzata? Gli impieghi della nostra polvere di grillo sono molteplici, può essere utilizzata sia in prodotti da forno che in prodotti dolciari o integratori alimentari. Noi in questo momento abbiamo fatto tantissimi test, tantissimi test interni, naturalmente può essere un ingrediente che va proporzionato e quindi messo in percentuale con altre tradizionali farine. Su una tagliatella fatta in casa che percentuale di farina di grillo può essere inserita? Possiamo arrivare a un massimo del 15% per esempio. Su un biscotto? Massimo 8%. Questi sono i riferimenti della normativa europea, naturalmente. Si parla molto di farina di grillo o di altri prodotti che in qualche modo fanno discutere. Perché invece può essere tranquillamente utilizzata? In questo momento può essere utilizzata perché è un prodotto sano, è un autentico superfood, in questo caso è 100% made in Italy, ma la verità che nessuno conosce è che è un prodotto veramente buonissimo, un prodotto di cui i nostri professionisti della nostra cucina usciranno sicuramente pazzi. Noi l'abbiamo testato e provato, è un prodotto di altissimissima qualità, oltre ad essere, come ho detto, un superfood, una proteina totalmente sostenibile.